Lavorava mio padre, mio padre era partitorico, però il problema è che lui era un posto fisso, stava nel paese, non aveva la licenza per girare, perché ci sta la licenza ambulante, praticamente che tu puoi fare le varie piazze, però per averla non è facile, perché ti abbiano la licenza per girare, non è facile, perché c'è molta concorrenza, veramente? C'è molta concorrenza sì, poi perché se tu vai a chiedere di andare a lavorare a vasto con una giostra, viene il giostraio che già ci sta a vasto e rompe il cazzo, dice chi è questo qua che viene dal termino di vento? Questa strana struttura, che sembra quasi un tempo, in questa valle, desolate e abbandonate. qui che piacerebbe vedere, c'è una bellissima libale, qui, a sopra il terno, in questa zona di fronte, abbiamo dormito dietro con le gambe, Sì, sembra miante. Sì, sembra miante. Sì, sembra miante. Sì, sembra. 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 Grazie a tutti.